Terremoto giudiziario nell'ambito della raccolta e smaltimento dei rifiuti a Gela e di questa mattina il blitz delle guardie di finanza diretta dal comandante Massimo De Vito negli uffici della Tecara, la società campana che dal 2013 gestisce il servizio in città. Le fiamme gialle hanno perquisito e sequestrato negli uffici della stessa società ma anche al comune, nelle abitazioni di alcuni amministratori e nella sede del lato CL2 diversi computer e documenti legati alla gestione dell'appalto. I finanzieri si sono legati anche nello studio del commissario liquidatore del lato Giuseppe Panebianco alla ricerca di documenti utili al proseguio delle indagini. Al momento attuale ci sono due persone indagate. Si tratta di uno funzionario della ditta, Antonio Baristreri, di 63 anni, ritenuto l'amministratore di fatto e di un impiegato comunale, Giuseppe Encardona, di 57 anni, in servizio nell'assessorato all'ambiente. L'accusa è di frode in pubbliche forniture. L'indagine è coordinata dalla procura di Gela, diretta da Fernando Asaro. Sulla vicenda vige il massimo riservo e non sono escluse novità eclatanti. I fari degli inquirenti si erano già accesi mesi addietro proprio sugli atti gestionali dal ciclo dei rifiuti. In più di un'occasione, in consiglio comunale, le sedute sono state caratterizzate da accuse e veleni e le denunce sono giunte direttamente al Palazzo di Giustizia. L'ATO CL2 attualmente vanta un credito di 13 milioni di euro verso il Comune. La vicenda della gestione dei rifiuti ha creato numerosi debiti fuori bilancio per i canoni dovuti, mentre i servizi extra sono stati pagati per prima.